Buonasera dal Tg3, in primo piano c'è lo scontro diplomatico senza precedenti tra il Vaticano e gli Stati Uniti con la Santa Sede che chiede di essere lasciata fuori dalla campagna elettorale in corso per le presidenziali e la Casa Bianca che critica la distensione dei rapporti con la Cina. A riprova dell'attenzione il fatto che il segretario di Stato americano Pompeo in visita oggi in Italia non sia stato ricevuto da Papa Francesco. Ha invece incontrato per quel che riguarda il governo italiano Conte e Di Maio. Allora facciamo il punto con Andrea Russichelli e Jacopo Matano. Alla fine di una mattinata a dir poco complicata il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, conferma la linea della Santa Sede. La distensione con la Cina sul riconoscimento dei vescovi cattolici va avanti. La Casa Bianca non deve interferire su questioni pastorali. Parolin si dice sorpreso dagli attacchi dieci giorni fa di Mike Pompeo sul rinnovo degli accordi vaticani con la Cina e chiede che il Papa sia lasciato fuori dalla campagna elettorale statunitense. La tensione è palpabile nell'hotel di Via Veneto dove si tiene il simposio sulla libertà religiosa organizzato dall'ambasciata USA presso la Santa Sede guidata da Callista Gingrich, moglie di un noto esponente repubblicano. È la prima tappa di questa nuova visita in Italia di Pompeo a distanza di un anno. Nel suo discorso introduttivo attacca la Cina liberticida e cita più volte Giovanni Paolo II con la sua spinta contro i regimi comunisti. Il Papa abbia ora il coraggio di affrontare le persecuzioni contro la propria comunità e le altre fedi, conclude. Poco dopo è Monsignor Gallagher, sottosegretario Vaticano per i rapporti con gli stati, a gettare benzina sul fuoco. La strumentalizzazione politica ed elettorale, dice, parlando con alcuni giornalisti, è una delle ragioni per cui il Papa non riceverà Pompeo. Oggi Parolina e Pompeo, intervenuti al simposio in momenti diversi, non si sono incrociati. Avranno di che discutere domani alle 11.20 quando Pompeo salirà al Palazzo Apostolico. Francesco non ci sarà e queste immagini del 3 ottobre dell'anno scorso sono un ricordo ingombrante. L'Italia è saldamente ancorata, gli Stati Uniti alla Nato, con Washington come con Bruxelles, l'Unione è su interessi e valori comuni. Alla Farnesina, nell'incontro con il segretario di Stato. L'Italia è saldò a tutti.